Il tecnico della Realzio Setup aveva promesso una tempesta perfetta, alla fine soltanto una piccola pioggerellina, niente di più, non abbiamo avuto bisogno nemmeno dell'ombrello, al massimo di un impermeabile per portare a casa questo risultato di parità, 1-0-0, il primo della stagione ma che permette alla Roma di accedere ai quarti di finale dell'Europa League, domani poi vedremo nel sorteggio chi ci capiterà, però è importante per la Roma, per Mourinho naturalmente, per la squadra accedere ai quarti di finale, ancora una volta Mourinho mette il timbro sulle competizioni europee, adesso bisogna concentrarsi esclusivamente sulla gara di domenica per cercare di recuperare invece quei punti che abbiamo buttato in campionato e per raggiungere la zona Champions, ci aspettavamo veramente una sorta, non dico una tempesta perfetta ma insomma ci aspettavamo comunque una squadra molto più intraprendente e parlo naturalmente della Real Società della Roma specialmente nel primo tempo ha tenuto anche bene e proprio questa mattina in radio io parlavo dell'opportunità e dicevo dell'opportunità di poter vedere proprio Belotti al posto di Abram e così è stato perché questa doveva essere comunque una partita non di Fioretto ma di Sciabola dove il Gallo veramente fa vedere quelle che sono tutte le sue caratteristiche, il pressing continuo, rincorrere comunque all'avversario, il fare densità anche a centro campo, l'essere comunque fastidioso in tutte le occasioni, in tutte le modalità in avanti dalla tre quarti a cominciare a cercare di pressare sul portatore di palla. Una Roma che nel primo tempo ha fatto qualcosa in più, ha sfiorato il gol con Dybala, ne ha segnato uno nel finale ma poi è stato annullato per un fallo col braccio da parte di Smalling ma ha controllato senza nessun problema la Real Società. Nel secondo tempo probabilmente la svolta è proprio all'inizio quando Sorlotte si è probabilmente divorato un gol a pochi passi di testa da solo e lì c'è stata una disattenzione difensiva che ha permesso al giocatore di poter battere a rete di testa in solitudine, meno male che ha sbagliato. Poi dopo c'è stata l'occasione che ha avuto anche Yard Zabal con la traversa, però la Roma alla fine ha tenuto e ha tenuto comunque anche bene. Forse ha rinunciato magari un po' troppo nel secondo tempo ma ha portato a casa quello che era il risultato, era quello che voleva. Grande sacrificio da parte di giocatori, grande sacrificio da parte di Pellegrini che ha fatto secondo me una partita più che buona. E tra l'altro giocare una gara con tre ammoniti dopo 17 minuti non era certamente facile, tra l'altro i due laterali Kasdorp e poi anche Mancini. Tra l'altro pensavo a un'ammunizione a Spinazzola che per fortuna non è arrivata, mi sembrava che avesse ammonito anche lui, sarebbe stato per lui la squalifica al prossimo turno. La mette Mancini adesso va in diffida, ha ammonito anche Smalling alla fine della partita ma non aveva comunque ammonizioni pendenti e quindi non va in diffida. Diciamo che ci saranno tutti i giocatori a disposizione. Mancava Matic che ha avuto un problema, ha giocato Wijnaldum, un po' luce e ombre, si vede che il giocatore ancora deve un po' forse entrare in quelli che sono i meccanismi di gioco di Murigno. Ha caratteristiche naturalmente diverse rispetto a Matic, un ottimo lavoro l'ha fatto ancora una volta a Cristante. Bene è andato i Bagnans, bene è andato anche Zaleski, ma l'importante, ripeto, che sia andata anche bene la Roma e che ha portato a casa ancora una volta un risultato assolutamente utile che le permette di accedere ai quarti di finale dell'Europa League. Adesso chiaramente testa e cuore alla gara di domenica per riprenderci i punti per la zona Champions e poi ci sarà finalmente la pausa. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre, sempre, sempre. Forza Roma, forza Roma, forza Roma.